Saluto a tutti, oggi 3D Final Touch Oggi andiamo a vedere come funziona questo prodotto della 3D, il Final Touch Ovviamente questa non è una sponsorizzazione, a me se lo comprate o non lo comprate non mi interessa Io ve li faccio vedere, questa è una video recensione dei prodotti americani Ve li sto facendo vedere tutti come si usano e il loro utilizzo 3D, quindi sono prodotti testati, sicuramente prodotti funzionanti Però voglio vedere se in mano mia funzionano, o comunque come funzionano Serve per pulire leggermente la macchina dalla polvere, oppure quando ha piovuto terra nell'immediato Insomma una macchina sporca proprio leggermente, invece di portarla magari al lavaggio Potete fare da soli con questo prodotto, oppure può essere usato come lubrificante per la clay bar Questi sono i due usi che la 3D dichiara sul proprio sito E lo andiamo a provare su una vettura nera Nel caso in cui di leggero sporco, per esempio, vedete com'è qua Si può usare Il final touch Un po' come se fosse il waterless car wash, vi faccio vedere Bagno bene E poi metto il panno in questo modo E faccio in modo unidirezionale Come il waterless car wash Senza fare eccessiva pressione E poi metto il panno in questo modo ecco la differenza vedete è lampante tra dove abbiamo passato e dove invece non abbiamo passato per esempio un altro uso oltre a quello di una lieve pulizia un ritocco diciamo sulla carrozzeria è proprio quello di poter essere usato come lubrificante per la clay bar è molto adatto a questo scopo la lubrifica benissimo diciamo che con un liquido fate prima la prepulizia quando la macchina non è veramente sporca insomma solo nel caso di leggera polvere e poi potete decontaminarla eccola qua vedete questo poi è nero è cioè si riga con niente invece perfetto con tutto ci ho passato la clay bar e non ho dato nient'altro guarda come è rimasto bello ecco da qua se uno vuole partire con una lucidatura con qualsiasi cosa può utilizzare questo final touch che praticamente è una diciamo una sostanza saponata al visto funziona molto bene per come dichiarato profuma di ciliegia di cerrissimo molto leggero molto delicato e che comunque non guasta effettivamente pulisce e lascia ben bella pulita l'auto la sentite anche al tocco e poi può essere giustamente una buona abbinata con il 3d poxy che sarebbe quella cera polimerica di montagna questo una clay bar e questo potete fare veramente un buon lavoro di protezione di pulizia della vostra auto poi ovviamente e questo può essere usato anche per fare i vetri per fare all'interno il cruscotto non rovina nulla ho provato dappertutto funziona bene da una diciamo pulita e lascia anche l'effetto antistatico insomma che non prende poi nuovamente subito la polvere è distribuito in italia da www.pmcvernici.it o espertidellavernice.it che è sempre lo stesso brand dei fratelli Pappalardo soltanto che stanno cambiando sito lo trovate su tutti e due i siti io metterò il link su uno dei due è sempre un prodotto ecologico quindi totalmente biodegradabile quindi lo usate in tranquillità spero di esservi stato utile spero che il video vi sia piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao al prossimo tutorial se è qui Flavio è tutto fare è possibile sbagliare un tutorial per partire e già sai che cosa fare non restare ad impazzire vedi come riparare perché è facile capire se c'è Flavio è tutto fare